Allora sicuramente il sacrificio, l'organizzazione che richiede il mio sport influenzano la mia vita quotidiana, la vita di tutti i giorni ma in particolare anche la vita scolastica proprio come mi organizzo infatti anche in pista tra allenamenti mi organizzo anche allo stesso modo con lo studio quindi cerco di suddividerlo durante i giorni e di ricavare anche comunque degli spazi da dedicare non solo a me stessa ma anche alla mia famiglia e ai miei amici Allora Labracco è una società bellissima, sono davvero grata di farne parte mi sostiene sempre, ogni gara è sempre disponibile, ringrazio infatti tantissimo Franco il presidente a cui tengo davvero tanto non mi abbandonano mai e mi accompagneranno ancora per molti in questo percorso